Quello che ci ha convinto è stata la disponibilità di tutti gli operatori dei bagni che abbiamo incontrato durante il primo sopralluogo e anche la disponibilità dell'amministrazione comunale. Tutte le disponibilità di vendere entusiasmo perché ospitare Giovavice non è una cosa semplice, si porta dietro una montagna di vantaggi ma si porta dietro anche un'amministrazione comunale deve essere pronta ad affrontare e deve essere in qualche modo motivata per ospitare uno spettacolo come questo.